Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Ancora non ci credo perché è un gruppo straordinario, una cavalcata incredibile, finita tre domeniche dalla fine, abbiamo dieci punti di vantaggio. Su questo girone e qui, nella storia di questo girone, non penso che ci siano altri precedenti. Un capolavoro veramente, col direttore da quest'estate che lavoriamo su tutto, ogni particolare, i ragazzi fantastici, insomma, sono un po' emozionato, nonostante ho anche una certa età e un po' dei campionati vinti, questo è il settimo tra giocatore e allenatore, però questo ha un sapore particolare, perché un anno fa venne qui e c'era da lavorare molto, in un anno sono successe cose veramente inaudite, inaudite per un mondo del calcio che non è facile, insomma, perciò veramente un capolavoro. Non ho parole, forse la soddisfazione più grossa della mia carriera, perché mi sento mia, veramente avevo capito fin dall'inizio perché allenavo un gruppo straordinario, dei ragazzi moralmente tutti si sono sentiti parte integrante di questo progetto e io penso ogni volta che ho vinto ho trovato uomini veri e loro lo sono e va il merito soprattutto a loro perché è loro che vanno in campo.